Associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata dal traffico di sostanze stupefacenti ma anche contrabbando di sigarette e distorsioni in danno di piccoli imprenditori locali con l'imposizione per esempio di servizi di guardiania ma anche detenzione illecita di armi e munizioni. Sono questi a vario titolo i reati contestati ad una presunta organizzazione criminale di stampo mafioso smantellata stanotte dalla guardia di finanza di Taranto che ha eseguito 11 misure cautelari, 8 in carcere, 1 ai domiciliari e 2 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'operazione Tabula Rasa in cui sono indagate ben 46 persone. Secondo le indagini in un caso l'organizzazione aveva imposto ad una casa cinematografica che girava un film a Taranto la guardiania dei propri sodali a mezzi e attrezzature. Nel 2018 secondo gli inquirenti l'organizzazione ha procacciato anche voti in occasione delle elezioni comunali a Taranto all'organizzazione criminale viene attribuito anche il danneggiamento di linee ferroviarie finalizzato a screditare l'operato di una società di vigilanza che aveva ottenuto l'appalto sulla linea ferroviaria Martina Franca Taranto a discapito della società in cui era impiegato un membro del clan. Nel corso delle indagini è stato accertato che due fratelli tarantini, Antonio e Cataldo Sambito, ritenuti dagli investigatori appartenenti alla Sacra Corona Unita, hanno proseguito negli ultimi anni le attività illecite nell'area tarantina unitamente ad altri sodali, avvalendosi, sottolineano le fiamme gialle, di una nuova forma di intimidazione non più predatoria e violenta, ma silente e simbiotica rispetto al contesto sociale di riferimento. La compagine criminale esercitava la propria egemonia soprattutto nel quartiere Tamburi e nella frazione di Tramontone a Taranto. Le ordinanze di custodia sono state emesse dal GIP del Tribunale di Lecce Edoardo D'Ambrosio su richiesta della procura distrettuale antimafia.